Da un amico volontario è stato distribuito questo volantino sulla chiusura del reparto cardiologia al Santa Barbara. Settimana scorsa, 15 giorni fa, abbiamo affrontato come sindaci il tentativo di chiusura del Siree, non la faccio lunga, dico soltanto che la questione sanitaria nel nostro territorio si tende a deprimerla, le potenzialità, non solo le potenzialità professionali dei medici, infermiere, quanti vi opere, ma dal punto di vista dei reparti sia di eccellenza e sia di assistenza agli utenti e ai pazienti. Quindi vi prego per chi può di partecipare a questo sit-in il martedì 15 dalle ore 10 alle 13, saranno i sindaci, sindacati e popolazione per chi verrà. Grazie.